Il giorno del ringraziamento al grande fratello è stato teatro di una cena turbolenta, con una lite furiosa tra Shaila Gatta ed Elena Prestes. La discussione è scoppiata dopo che Shaila ha scoperto una lettera indirizzata al suo compagno Lorenzo, scritta da Elena. Il duro confronto è diventato virale sui social, scuotendo il pubblico. Dopo aver vinto l'ultimo televoto e ottenuto l'immunità, Elena è stata attaccata da Ilaria Galassi e poi da Shaila durante la cena del ringraziamento. Shaila ha perso la pazienza accusando Elena di essere falsa e provocatoria. Le sue parole taglienti hanno suscitato reazioni contrastanti sui social, con molti che hanno criticato il suo comportamento. Shaila ha continuato a attaccare Elena, definendola una giocatrice falsa e provocatoria. Elena è scoppiata in lacrime, ma Shaila non si è lasciata intenerire, continuando a criticarla. La reazione dei fan è stata divisa, con alcuni che hanno condannato il comportamento di Shaila e altri che l'hanno difesa. La cena del ringraziamento al grande fratello è finita male, con le parole infuocate di Shaila che hanno scosso il pubblico. Molti hanno criticato il comportamento delle concorrenti, chiedendo un intervento da parte della produzione. La discussione ha diviso il pubblico. Ok, d'accordo qua, e vuoi ne stai a tour, se stai a di Shaila. Altri un'ancolo un'autonata.